Dal 25 al 28 agosto il settore giovanile del Devils Futsal Chieti è in ritiro in quel di Rosello come quartiere generale ma come impiantistica sportiva a Borrello. Un campo in erba e una struttura adiacente dedicata al calcio a 5 per una cinquantina di ragazzi e per il mondo del futsal non è sicuramente poco, vero Presidente Lavalle? Sì sicuramente non è assolutamente poco e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale qui di Borrello che ci ha ospitato e ci ha lasciato gratuitamente l'utilizzo di questi impianti quindi un grazie veramente particolare all'amministrazione perché di questi tempi è oro avere strutture del genere d'estate in piena fase di preparazione delle squadre di calcio a 11 quindi ce l'hanno lasciato e ringraziamo l'amministrazione. Per ricollegarmi alla tua domanda è vero non è poca roba anzi muovere 50 ragazzi anche all'indomani nelle note situazioni tragiche come quella del terremoto non è stato facile ma la volontà dei ragazzi, delle famiglie, il fidarsi comunque di noi ci ha permesso di portare a termine un'impresa perché appunto sono 50 ragazzi di portarli 4 notti fuori casa è veramente un grosso orgoglio per tutti noi non pensavamo di raggiungere questi numeri perché comunque è il primo stage che facciamo di pre-campionato e quindi siamo veramente molto orgogliosi e contenti dell'operato della società ma soprattutto della grande fiducia riposta in noi da parte delle famiglie. Quest'anno lo ricordiamo ancora una volta c'è stata questa fusione con il Red Devils Chieti avete unito le vostre forze anche per il settore giovanile questo è un grosso passo in avanti perché garantirà un futuro roseo alle squadre di Chieti. Sì sicuramente per adoperare un classico detto l'unione fa la forza ed è vero perché comunque siamo partiti con una programmazione forte a livello di prima squadra di C2 abbiamo già allestito un organico di primo ordine quindi tutti i giocatori di esperienza di categoria anche hanno calcato palcoscenici importanti quindi la squadra parte con ambizioni importantissime il cammino di C2. Non voglio tralasciare neanche l'aspetto femminile perché anche con la femminile ci siamo riorganizzati anche lì dai nomi che lo staff tecnico è riuscito a reperire sul mercato anche lì le ambizioni sono più che buone. Quindi a livello di prime squadre veramente sono soddisfatto dell'operato di tutti i miei collaboratori del DS Sebastiani per quanto riguarda l'aspetto maschile prima squadra e del direttore tecnico Marco Uccitti per quanto riguarda la femminile ma anche di Carletti Alessandro che è il mister riconfermatissimo della femminile. Quindi veramente un applauso a tutti per l'operato bellissimo e brillantissimo che hanno fatto. La presentazione sarà programmata a breve? Sì per la presentazione aspettiamo proprio di organizzarci affinché tutti i ragazzi rientrano in sede abbiamo iniziato la settimana scorsa anzi da lunedì la preparazione per la maschile giovedì inizieremo per la femminile. E quindi il tempo che si aggrega un attimino si vanno a consolidare tutti i numeri delle squadre diciamo per metà settembre ti ricontatteremo per la presentazione ufficiale sia dell'organico maschile che femminile. Avevo sentito però adesso non so se sia vero che comunque è allestivata anche una squadra di serie D. Sì sicuramente parteciperemo è vero quindi parteciperemo anche al camionato di serie D provinciale l'iscrizione è già stata perfezionata quindi faremo sia il camionato provinciale serie D e sia la Coppa Abruzzo. Siamo anche detentori della Coppa Abruzzo serie D chissà che non si faccia il bis. Il signor Umberto Stefanachi è il direttore sportivo del settore giovanile con lui parliamo un po' di questo ritiro di come è stato strutturato e di quali saranno i campionati che si andranno a disputare da qui a breve. Sì allora abbiamo deciso di fare per la prima volta questo stage qui a Rosello devo dire l'esperimento è riuscito sono circa 50 ragazzi che vanno da un'età dai 2000 ai 2006 più piccoli abbiamo deciso di non provare per motivi anche strutturali e autogestionali. Ripeto autogestionali perché ci troviamo in un ostello a Rosello dove oltre alla preparazione calcistica abbiamo deciso di vedere questi ragazzi come riescono a gestire la loro presenza in un ostello sia quindi rifare le stanze pulirle e anche da parte nostra perché siamo noi che cuciniamo ecco qui infatti bisogna anche mettere un punto che vanno migliorate le cose perché abbiamo dovuto sacrificare i due dirigenti dello staff che sono stanno dalla mattina alla sera nella cucina. I ritiri sono fatti nel campo a calcio 11 e nel campo di calcetto a seconda della preparazione sportiva che hanno deciso i mister delle categorie esordienti allievi e giovanissimi e quindi devo dire un successo appieno. Per quanto riguarda i campionati a breve inizieranno la preparazione sia agli allievi che ai giovanissimi anzi il primo settembre e invece dal 5 settembre noi abbiamo deciso come società Devils Futsal Chieti fare un open day aperto a tutti quanti vogliano provare questo sport della futsal calcio a 5 quindi gratuitamente per vedere se i ragazzi amano questo sport del calcio a 5 ripeto dal 5 al 30 settembre e ad ottobre poi inizierà il campionato regionale dei giovanissimi e degli allievi dove sono stati fatti anche acquisti importanti dal punto di vista tecnico infatti sugli allievi sono fiducioso sul mister Francesco Cornacchia, un mister che ha già avuto successi a livelli nazionali abbiamo avuto un nuovo acquisto con il mister Sandro Blasioli per le categorie 2007 e 2008 un nuovo acquisto per quanto riguarda Luca Cornacchia per chi non lo sappia un ex giocatore del calcio a 5 che ha partecipato anche alla nazionale di calcio a 5, ha giocato in Serie A, un stato il secondo del grande Mammarella e insomma prevedo un buon futuro, prevedo che il Signore ce la mandi bene Per quanto riguarda invece gli impianti e chiudiamo qui con questa domanda quali saranno gli impianti ufficiali dei vostri campionati giovanili? Allora abbiamo in via di Vestina a Chietiscalo gli impianti dell'Eurocalcetto attualmente sono due scoperti ed uno coperto a breve, anzi a breve, credo ad ottobre verranno coperti i due impianti che sono il campo 1 e il campo 2 dove sono anche riscaldati in periodo invernale per permettere alle categorie dei primi calci, pulcini soprattutto, di evitare il freddo durante l'allenamento e quindi sono tre impianti presso Chietiscalo, via dei Vestini, impianto sportivo Eurocalcetto Tra i volti nuovi dello staff tecnico, Alessandro Blasioli, preparatore dei portieri si occuperà anche di gestire i ragazzi nati nel 2007 e 2008 una prima esperienza che si vive con grande entusiasmo, vero? Sì certo, non è una mia prima esperienza in questo settore in quanto vengo da 10 anni, ho fatto anche qualche anno 10 anni con il River quindi è la prima volta che sto in questa società sono stato chiamato per fare i primi calci, 2007 e 2008 e in più la scuola dei portieri, avviare questo io sono ex portiere e lo faccio da quando avevo 30 anni quindi il progetto presentato dalla società mi è piaciuto e quindi sono venuto qui al futsal Rispetto al calcio a 11 ci sono un po' di differenze? Beh sì certo, calcio a 11 diciamo che c'è più tecnica e il portiere deve essere molto più preparato tecnicamente per cui ci sono diverse situazioni, il porta più grande diciamo parata da soterra, mezza altezza, uscite alte e basse qui a calcetto è molto più distinto di riflessi anche una parata con una spalla è una grandissima parata quindi un po' meno tecnica ma tanta tanta forza fisica relatività e esplosività Vittorio Micozzi quest'anno ricoprerà tanti ruoli all'interno del Devil's Futsal Chieti ma quale sarà il più importante? Buonasera a tutti il ruolo più importante sicuramente come potete vedere qui oggi a Rosello è stare insieme a questo gruppo di ragazzi da 3-4 anni, si iniziano a raccogliere dei bei frutti quest'anno c'è da divertirsi, ricoprirò il ruolo di educatore tra Pulcini 2006 e Sordenti 2004 quindi saranno tre annate belle impegnative ma molto divertenti anche nella prima squadra ci sarà bisogno di impegno di dedizione a questa nuova società, a questa nuova maglia quindi il lavoro è arduo diciamo su tutti i fronti Dove potrà arrivare a livello di prima squadra il Devil's Futsal Chieti perché Chieti ha bisogno di tornare ai fasti di un tempo? Sicuramente il presidente con i dirigenti hanno creato un organico competitivo hanno creato una squadra molto giovane e noi cercheremo di dare il massimo ci stiamo impegnando un sacco con la preparazione il mister Valente ha un curriculum da fare in video a molti allenatori io sarò al suo fianco, prepareremo la squadra al meglio e cercheremo sicuramente di vincere questo campionato